Carlo Levi a sud di Eboli, questo il titolo dello spettacolo teatrale scritto da Luca Guardabascio che vivrà la sua prima nazionale il prossimo 4 aprile presso il Teatro Italia. Un viaggio nel meridione, nella sua storia e nella cultura autentica di una parte del paese. Un appuntamento che mette in rete comune artisti, rete scolastica, associazioni ed appassionati, nato dall'idea del comitato Eboli verso Matera, la cui presenza sottolinea il legame tra i due territori attraverso l'opera di Carlo Levi e nell'anno di Matera, capitale europea della cultura. Un momento storico per la città di Eboli, per la prima volta l'amministrazione comunale ha deciso di produrre una rappresentazione teatrale sulla via Leviana con Carlo Levi, sul Cristo si è fermato ad Eboli, affinché davvero questo legame di congiunzione con la città di Matera sia sempre più forte e più sentito. E poi ancora più importante è il coinvolgimento di artisti locali, da Luca Cazzolaro, da Luca Guardabascio, dal professore Pasquale Ciao e da tanti altri che hanno voluto contribuire insieme a noi a questo percorso sperimentale che credo che rappresenterà un momento unico per la città di Eboli affinché davvero tutti possano tenere conto di questo volume storico sul libro del Cristo si è fermato ad Eboli di Carlo Levi che vuole porre una questione sul mezzogiorno ma ancora di più su quello che può rappresentare oggi il nuovo mezzogiorno e partiamo da Eboli da 4 aprile l'euro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.